buonasera che bel posto che bello tornare qui dopo dieci anni quante cose sono cambiate questo una volta ero in cinema ricordate cinema una cosa vecchia sì sì io stavo oltre al pubblico cioè in realtà non c'era il pubblico perché vediamo i film in lingua originale eravamo in sei sembrava un comizio di adinolfi veramente tu pensai io ci venivo da viterbo pagavo 25 euro faccio 100 chilometri ma la villa pieno insegno che il cazzo gliela pago capito no conoscete un po viterbo dai santa rosa stupri nel pub di casa pound tutte queste belle cose viterbo è una città che assurge alla cronaca solo per due motivi fanatismo religioso e cronaca nera a volte le due cose insieme ma veramente l'ultima cosa che ho letto che mi ha fatto sorridere la notizia vi giuro testualmente era questa rapina una trans voleva indietro i soldi della prestazione si era fatto infilare un braccio nel posteriore e fino a 15 no ci sta ma l'immagine a corredo un braccio non è che c'era san pellerino un braccio proprio a ribadire no veramente no a parte questo ma parlando di masochismo la macchina di santa rosa conoscete conoscete che per chi non lo sapesse non è una auto vettura è una tradizione religiosa che io non ho mai capito per cui i viterbesi ogni anno costruiscono questa torre che sembra un cazzo cioè dei 30 metri 30 metri per 50 quintali la portano a spalle per la città per onorare una teenager morta nel 1200 cioè assurdo e poi ho scoperto da grande la cosa veramente assurda che questa santa rosa non è manco santa è beata non è stata mai promossa c'è ti fai un bucio di culo così per 800 anni gioco ancora in serie B sì sì io per queste battute farò la fine di Charlie Hebdo eh ve lo dico applauso adesso un'altra cosa che ho notato di viterbo ultimamente un'altra caratteristica è un certo non so come chiamarlo fascismo viterbo leggermente fascista parlavo con un amico mio due anni fa questo mi va tutto incassato di Verona ma ti rendi conto questo che cazzochino fa a Verona nella mia città vogliono dedicare una via a Giorgio Almirante ma ti rendi conto filmatario del manifesto della razza capo redattore del manifesto della rivista la difesa della razza una vergogna un nazista che schifo io stavo lì dico una via che sfigati noi a viterbo c'è una circonvallazione veramente giuro circonvallazione Giorgio Almirante noi facciamo le cose in grande tipo l'autostrada del sole del fascismo una roba incredibile però non se ne parla non fa notizia si parla sempre di roma di verona ho fatto sto pezzo alla latina pure la latina hanno alzato le mani così 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 veramente no eppure è strano perché di canio palo di canio è venuto a viterbo è stato aggredito dai fascisti secca de merda a bottigliate tutto vero tutte le notizie che le sto citando vatti a fare canessi a manu ciao merda così veramente però ultimamente le cose stanno cambiando devo dire ultimamente di recente il comune di viterbo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a liliana segre che tutti conoscerete no conoscete sì siete nazisti meno voi senatrice vita 90enne sopravvissuta all'olocausto deportata ad auschwitz tutto quello che ha patito pure la cittadinanza viterbese no a parte scherzi no non c'è bisogno questo applauso alle deportazioni no a partire mi è sembrato veramente un bel gesto anche se poi mi sono immaginato che questa dico prima o poi verrà a viterbo no per delle onorificenze verrà per un incontro con le istituzioni con i giovani mi sono immaginato che questa qui sendo anziana parte tutta felice da da milano dove cazzo abita non lo so col suo artista perché non guida ovviamente parte tutta allegra no con la macchina fanno sto viaggio che bello che che bella giornata si prospetta con i giovani felici cantano canzoni ebraiche che ne so non lo so conosco solo questa non so che cazzo ne canta arrivano dopo cinque ore di viaggio tutti felici no entrano nel lazio arrivano nei pressi di viterbo a un certo punto la musica tutti felici sotto abbassano la musica e dal navigatore dell'autista di lina segre esce questa voce tra cento metri svolta a sinistra ed entra in circonvalazione giorgio almirante capo redattore della rivista la difesa della razza mario ferma la macchina questa è l'imboscata che cazzata che mi ho fatto mamma mia poraccia la fanno morire da crepa core io a sto punto spero che se mai verrà venga in treno che se forse il treno magari non è propriamente il suo mezzo di locomazione preferito mi immagino a parte questo un altro applauso le deportazioni no ragazzi che cazzo applausi solo le deportazioni che poi dopo aver fatto sto pezzo ho scoperto una cosa ancora più paradossale cioè che il marito di Liliana segre a un certo punto della relazione si è candidato con l'MSI con l'almirante è lì che capisci che le cose in una coppia non vanno molto bene quando tu sei ebrea lui diventa nazista cioè forse è il caso di andare ad un terapista no a parte tutto poi lei ha fatto l'out out e lo senti scegli e lui giustamente tra nazifascismo e la figa ha scelto la figa meno male no veramente ragazzi io vorrei concludere dicendo che non si può nel 2022 ancora parlare di Mussolini basta cioè Mussolini ha fatto le pensioni non è vero la tredicesima non è vero sa l'unica cosa che ha fatto Mussolini che ha introdotto Mussolini il doppiaggio quella merda è il doppiaggio grazie grazie